L'ultimo episodio è quello di Aciglia, periferia sud di Roma, dove la polizia nei giorni scorsi ha fermato una baby gang che da mesi era l'incubo del quartiere, con i suoi 40 colpi messi a segno da settembre, vittime sia adulti che bambini, rapina i bar, scippi, aggressioni, vi è perfino una violenza nei confronti di poliziotti e il danneggiamento di una volante nella centralissima piazza Cavour. A capo di questa banda una ragazza di 17 anni. Ma questo è solo un caso, forse l'ultimo, di bambini o giovanissimi che si associano per vivere da criminali. Da Torino a Palermo la penisola è teatro di questo fenomeno che ha come epicentro Bologna. Se si leggono i dati pubblicati dagli uffici di servizio sociale per i minorenni, emerge non tanto l'aumento dei reati minorili quanto la loro estrema gravità. Furti, spaccio di droga, lesioni volontarie, rapine, c'è di tutto. Le baby gang mettono in atto comportamenti gravemente criminosi proprio come gli adulti. Dicevamo di Bologna, qui sono 2239 ragazzi in carico agli uffici di servizio sociale. Un numero enorme se si pensa che in città ben più grandi, ad esempio Roma, sono 1451, Napoli 760, Milano 427. Grazie. Grazie.